La depressione che è nelle ultime 24 ore interessata alla nostra regione va allontanandosi verso sud-est e nelle prime ore di sabato 5 ottobre la ritroveremo sulla penisola ellenica. Al suo seguito affluirà area relativamente fredda, che nella giornata di venerdì 5 ottobre determinerà un oltre sensibile calo delle temperature. Al suo seguito affluirà area relativamente fredda, che determinerà un oltre sensibile calo delle temperature. Per sabato 5 ottobre quindi, condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con possibilità di deboli piovaschi sparsi, più probabili sul settore occidentale della regione. Temperature in leva aumento, venti tra deboli e moderati da ovest nord-ovest, mari mossi. Mentre per domenica 6 ottobre, cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite, basso rischio di precipitazioni, temperature stazionarie, venti deboli di direzione variabile con una maggiore componente settentrionale, mari poco mossi. Molto probabilmente lunedì, stante la posizione meridiana dell'anticiclione delle Azzorre, la saccatura nord-europea si allungherà nuovamente verso sud, con conseguente formazione di un minimo depressione sulla Francia, in successivo movimento verso sud-est. Dunque, tra lunedì 7 e martedì 8, la nostra regione potrebbe essere interessato a un nuovo peggioramento, con l'arrivo di altre precipitazioni e successivo calo delle temperature. Per maggiori dettagli, consultate il sito www.meteosette.it.